Non sei venuto a rompere i c***i a me? Che vi ho dato una cosa? Ma fate ridere, siete proprio stupidi, siete stupidi. La società è una m***a fatta da gente. State zitti, vado, avete rotto il c***o. Ho dei sentimenti, c***i. Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez. Vai a fare il culo. Frommi, c***a. C***o. No, questo no, questo no. No, stai bene, ciao ragazzi, ciao. Allora, per non fare la parte di quello che dà ragione a lui, io non ho, non vado avanti, perché qua siamo tornati indietro. Però vi faccio vedere quanto nobile io sono. No, ma lo so, non ho bisogno che me lo diciate voi. È bella questa scena, vero? A me non disturba, sono abituato a cose molto più gravi. L'indignazione, ce l'ho io perché siete voi al mondo. Guarda come inizia la tua faccia da schiaffi, mi ricorda un po', sei, tra Aldo, Grasso, c'è proprio la faccia di uno che ride quando deve prendere la faccia da schiaffi. Perché ridi? Non c'è da ridere. Ti fa ridere, vero? Tu ti senti migliore, no? È ridicolo, trovi ridicola la scena, vero? Tu, da mischiato tra i tanti, senti che è ridicolo quello che stai vedendo. Smettila! No, ma voi che mi dite smettila, voi che mi diciate smettila, ma siete i direttori artistici? Questo è spettacolo, io decido di farlo o non farlo? Cioè, siete il pubblico, cosa vuoi? Smettila. Ma che è? Ma siete i bifolchi? Avete pagato ma non sapete chi sono? Non sapete chi sono? Non sapete assolutamente, cioè andate a casa vostra. State zitti, andatevene, rispettate quello che state vedendo, perché è arte, non la vedrete da un'altra parte. Smettetela! Ma che vuoi tu? Che vuoi? Vieni qua, vieni qua, dai, fatti vedere in faccia, fatti vedere, dai, fatti vedere.